Operazione antidroga dei carabinieri in Altavalle nella serata di lunedì 25 aprile che ha portato al sequestro di diversi quantitativi di cocaina, marijuana ed ecstasy destinati al mercato locale che avrebbero fruttato tra i 15.000 e i 20.000 euro. Gli uomini dell'arma guidati dal comandante di Bormio Giovanni Frascello hanno scoperchiato un'importante centrale dello spaccio grazie ad un'indagine partita da alcune voci di paese legata ad un bar utilizzato come luogo per la vendita dello stupefacente. L'attività investigativa ha permesso ai militari di scoprire come i clienti, una volta entrati nell'esercizio a gestione familiare, venivano accompagnati da uno dei titolari, un 33enne del posto, nella sua abitazione adiacente al bar, dove avveniva la compravendita, soprattutto di marijuana e cocaina. Il tutto senza che il resto della famiglia del 33enne si rendesse conto di nulla. Lunedì sera il blitz ha scattato nel momento in cui è entrato nell'esercizio pubblico un assuntore già noto alle forze dell'ordine. Il proprietario si è allontanato con lui lasciando inavvertitamente la porta di casa socchiusa. Ci siamo appostati e abbiamo sentito provenire all'interno un forte odore di marijuana, tant'è che abbiamo deciso di irrompere nell'abitazione e al nostro accesso abbiamo visto appunto che la persona tratta poi in arresto si è piegata su se stessa per celare, per coprire il quantitativo di marijuana che poi abbiamo sequestrato. Durante la perquisizione i militari hanno trovato sul letto 325 grammi di marijuana, nell'armadio in camera 298 grammi di cocaina e altre due dosi di coca nascoste nella cappa. Bicarbonato usato per tagliare lo stupefacente, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. 200 euro in contanti e un grammo e mezzo di MDMA, sostanza nota con il nome di ecstasy, il secondo rinvenimento negli ultimi mesi, oltre ad alcune bottiglie di plastica attrezzate artigianalmente con fogli d'alluminio e cannucce per fumare la polvere bianca a modi narghilè. Il 33enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, trasferito nella stessa sera al carcere di Sondrio. Il GIP ha poi convalidato la custodia in carcere. Tutto il lavoro è stato fatto in sinergia con tutto il personale della stazione di Bormio, sfruttato sia in abiti civili che in uniforme e con le auto di coniglie di istituto. È stato un evento importante, è stata un'operazione importante perché ha visto coinvolto l'intero reparto. Ancora un arresto per droga in Altavalle, certamente non il primo per i militari coordinati da capitano dei Carabinieri di Tirano, Luca Mechilli. Sicuramente gli ultimi arresti ci fanno ritenere che anche in Valtellina questo fenomeno abbia preso piede. Le dimensioni non sono preoccupanti, non c'è un allarme sociale, però c'è sicuramente il dato che è stato portato alla nostra attenzione della presenza di alcune basi dove la sostanza viene venduta e a volte anche coltivata, come abbiamo già accertato in passato con la scoperta di alcune piantagioni di marijuana, soprattutto nella media-alta valle. È un settore come quello dei reati contro il patrimonio in cui ci stiamo impegnando e stiamo investendo notevoli risorse proprio per prevenire il fenomeno e laddove è necessario contrastarlo in maniera energica ed efficace.